Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Amadeis e la moglie Giovanna Civitillo hanno festeggiato ieri, 12 luglio, l'anniversario di nozze. La coppia ha voluto festeggiare l'anniversario con i loro follower, condividendo su Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae mentre si baciano. La didascalia del post condiviso recita, 15 anni di matrimonio. Oggi come allora, i due si sono conosciuti nel 2002 in Rai, quando Amadeus conduceva l'eredità e Giovanna faceva da ballerina e valletta. Inizialmente, lei era un po' restia all'idea di frequentare il presentatore, ma alla fine ha consentito. E i 15 anni di matrimonio dimostrano che ne è valsa la pena, il 18 gennaio 2009 i due hanno dato alla luce loro figlio, José Alberto. Amadeus ha già una figlia, Alice, avuta da un precedente matrimonio. E a luglio dello stesso anno si sono sposati con rito civile. Proprio su José Alberto nelle scorse ore è immersa la notizia che è stato ingeggiato dall'Udinese per giocare nell'Under-16, dove ricoprirà il ruolo di portiere. Un motivo in più per la famiglia per festeggiare. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.